Buonasera a tutti, oggi è il 3 marzo, sessione delle 17.30 il tema del laboratorio di oggi è la condivisione dei documenti, dei file partendo da moduli, quindi da questa funzionalità di Google Drive sino ad arrivare a Sites, cioè la creazione di un sito Google faremo prima un'introduzione rispetto a ciò che è Google Drive e a come è possibile condividere con che modalità e quali materiali come primissima introduzione, allora io presento attraverso lo schermo quindi adesso condivido, vi presento il sito dell'Iceo Gambara questa è la nostra icona, vedete tutti? ecco ricordo ancora avvio della campagna vaccinale per chi di voi magari non avesse avuto questa informazione è stata avviata oggi, la procedura è davvero molto molto semplice ecco, nel menu di destra trovate un box dedicato alla G Suite quindi informazioni e materiali di supporto qui trovate anche alcuni miei tutorial o altri magari che ho reperito nel web trovate le novità di febbraio nel senso che come sapete la suite si chiama adesso Workspace e ha delle funzionalità interessanti scendendo sempre dal menu di destra arrivate a formazione dei docenti neoassunti che è stata avviata a livello di incontro introduttivo sabato e che coinvolge una serie di docenti quasi un centinaio di docenti dalla infanzia alla secondaria di secondo grado se siete interessati a vedere anche se siete ovviamente già in ruolo e così non dovete fare questo tipo di formazione vi consiglio di dare un'occhiata all'archivio in particolare a anno scolastico 2019-2020 perché qui sono raccolte come vedete in questa cartella cartella drive tutti i materiali dello scorso anno per cui divisi in cartelle questo vi da già un'idea dell'utilità dell'archivio dell'archiviazione, della documentazione cioè tutto il materiale che è stato utilizzato ed è stato prodotto anche dai docenti è raccolto in queste cartelle quindi questa ad esempio è la mia nella mia cartella ci sono sia le video lezioni che le mie risorse i padlet, risorse integrative esterne le otto video lezioni relative ai miei moduli tutte in link naturalmente a YouTube e artefatti di digital storytelling e anche attraverso appunto presentazioni Google ecco questo è un esempio di un archivio e quindi di valorizzazione di lavori prodotti nell'ambito di una formazione ecco vedete questi erano i tutor Roberto Bianco che insegna il liceo Copernico animatore digitale Patrizia Greggio che è la nostra seconda collaboratrice del preside e webmaster del sito Patrizia Mulinacci Costantina Latorre Claudia Franchi Monica Arrighi Costantina Latorre e Monica Arrighi lavorano al primo ciclo di istruzione Sara Paternoster è esperta per quanto riguarda i BES e Claudia Franchi invece per quanto riguarda la gestione della classe questo è ad esempio un link con tre artefatti video digitali invece realizzati da una corsista quindi io ho messo in un Padlet questo Padlet è una bacheca virtuale ecco questi sono ad esempio tre video che possono essere interessanti per chi di voi vuole approfondire con i propri studenti testo narrativo, testo argomentativo, testo persuasivo ripeto la professoressa Maria Serrana ha realizzato questi video otto mesi fa vedete c'è scritto qui otto mesi io ho creato il Padlet e lei ha caricato poi i suoi lavori quindi è un'archiviazione all'interno dell'archiviazione di Drive quindi io attraverso un semplice link che posso darvi tranquillamente e mettervi in chat ho raccolto questo è soltanto un esempio il lavoro degli insegnanti in formazione ecco quello è il link al Padlet con i tre lavori della professoressa Serrano adesso vediamo se funziona tutto bene mi sembra di sì l'argomento di oggi ok perfetto ecco questo lo trovate all'interno di un sito ritorniamo rifacciamo ancora il passaggio quindi sito dell'Iceo Gambara menu di destra formazione docenti neoassunti poco sotto trovate lo spazio azioni formative della rete ambito territoriale Lombardia numero 6 cliccando sull'immagine trovate la sessione Open Education qui tengo molto perché è un repository di risorse libere quindi non di etichette proprietarie diciamo così Microsoft, Google ma risorse create e messe a disposizione open cosiddette open con anche una serie di articoli di approfondimento e anche una serie di link a aggiornamenti e a corsi online in termini di privacy di rispetto di copyright all'interno dell'amministrazione pubblica ad esempio questo è uno degli ultimi link che ho postato era un webinar molto interessante sugli strumenti liberi per la didattica a distanza e l'amministrazione pubblica ecco trovate questo riferimento compresa anche le registrazioni se andate a Open Education un altro link interessante è questo questo è un articolo del mio blog era un webinar free di libri di leggere digital biblioteche architetture di avanguardie educative quindi cliccando su questo link voi arrivate alla registrazione del webinar del 15 febbraio dovrebbe funzionare io mi occupo di avanguardie educative io ve lo copio comunque visto che l'ho citato e ve lo metto in chat vedete la condivisione è davvero molto semplice quindi se siete interessati lo trovate lì ok quindi sempre procedendo anche Telefono Azzurro oggi ha fatto delle cose stupende sulla comunicazione online sia per il primo che per il secondo ciclo procedendo con questo box riservato alla formazione ambito 6 trovate altre tre sezioni la seconda è relativa alla formazione a cura dei docenti dell'ambito 6 quindi tutti i laboratori che stiamo tenendo ora vengono registrati diversamente da quanto accadeva l'anno scorso eravamo in emergenza e quindi io non ho registrato mai perché volevo che i docenti fossero liberi di formulare le domande di interrompere quando volevano quest'anno i laboratori sono sempre registrati e sono condotti anche in regime di peer education quindi come vedete pochi giorni fa si è svolto il laboratorio di Paola Di Paola su Live Worksheets questa è la registrazione il laboratorio ThinkLink di Angela Benini questa è la registrazione Elisabetta Cristella invece ha presentato Adobe Spark il 25 di febbraio questi sono i link sia delle slide che della registrazione e Federica Campilongo ha presentato Quizzizz il 23 di febbraio ecco saranno caricate sempre in questo spazio anche le registrazioni di oggi sia quella delle 14.30 che questa delle 17.30 poco sotto trovate bandi programmi calendari e iscrizioni quindi modalità per iscriversi ricordo che l'iscrizione a questi corsi l'ho lasciata aperta per richiesta dei dirigenti ambito 6 quindi voi potete tranquillamente passare il link ai vostri ai vostri colleghi poi se volete al termine del laboratorio lo rimetto in chat il link per le iscrizioni ma lo trovate anche nel mio sito l'ultima sezione è dedicata alla formazione dei docenti per l'educazione civica quindi alla formazione di quei docenti che sono stati segnalati dai dirigenti quali referenti nei loro istituti quindi questa formazione avrà avvio sabato sabato 6 marzo questi sono i calendari e questi sono i nomi delle esperte che che interverranno pacchelli orietta non è una mia parente il preside tiene a sottolineare che non siamo a questo livello di nepotismo assolutamente una cosa casuale quindi voi vedete che i moduli sono di colore diverso e il colore azzurro è il modulo sulla cittadinanza digitale l'arancione quello condotto dalla professoressa Bornatici Sara è il modulo relativo allo sviluppo sostenibile il modulo invece in verde condotto da Tomasini Cristina è riservato al primo asse dell'educazione civica quindi costituzione istituzioni europee e poi di nuovo ci sono io per un modulo dedicato alla valutazione come vedete ci sono diverse edizioni sarà mia cura anche fornirvi la registrazione per cui al di là del fatto adesso metto una persona Rosa buonasera Rosa che appunto la partecipazione è riservata ai docenti selezionati dai dirigenti metterò assolutamente a disposizione di tutti i materiali che produrrò le video lezioni eccetera quindi qui trovate le indicazioni calendari cronologici anche per moduli e questa è ripeto l'ultima sezione troverete la registrazione qui alla seconda formazione a cura dei docenti dell'ambito sei cominciamo cominciamo con entrando nell'ambiente classroom quindi se siete qui presumo abbiate adottato workspace che è il nuovo nome per la suite di google quindi molte sono gli istituti che hanno adottato questa piattaforma oppure la piattaforma teams di microsoft entrambe hanno una repository drive che sia che sia one note o che sia google drive è un ottimo strumento per archiviare appunto come si vuole presentare oggi come fare partendo da classroom ad arrivare a drive si va al quadrato in alto a destra e si opziona drive questa icona con un triangolo colorato vi appaiono le ultime risorse create quindi le cartelle le vostre cartelle e secondo l'impostazione che avete dato i documenti che avete aperto ultimamente come vedete nel laboratorio precedente ho creato un sito che è questo qua laboratorio online del 3 marzo 2021 ambito 6 vedete questa è l'icona di sites ho creato anche un form un modulo e questo vedete è l'icona violetta del modulo e ho caricato nel sito un video realizzato da una studentessa del liceo Gambara perché l'ho caricato per comunque sottolineare il fatto come dicevo poco fa quest'anno si vuole davvero promuovere la peer education sia a livello di studenti studentesse che a livello di colleghi quindi di docenti che condividono in piena libertà e anche serenità le loro competenze quindi io vedo che c'è stata una buona risposta sia da parte degli studenti che da parte dei colleghi e quindi comincerei proprio da qui cioè comincerei col mostrarvi brevemente quella che è la registrazione all'interno di un mio laboratorio PCTO Web Radio cioè un laboratorio di percorsi di competenze trasversali per l'orientamento che ho riservato in modo inclusivo ad alcuni studenti dell'iceo Gambara ecco Mariam Coulibaly che vedete qui in quadrata che adesso parlerà è una studentessa della quinta D del nostro liceo che presenta ai compagni alcuni applicativi per realizzare podcast ecco questo video che adesso voi vedete qui nel mio drive lo archivieremo attraverso moduli o anche bypassando moduli direttamente in sites quindi creando un sito come repository di tutti gli artefatti prodotti all'interno della scuola che siano degli studenti ripeto o che siano dei colleghi vediamo qualche minuto di questo video è interessante poterlo svolgere di podcast perché ritenevamo che fosse diciamo interessante poterlo svolgere appunto sotto forma di podcast e noi per siccome per questioni appunto di sicurezza non abbiamo potuto farlo tutti stando nello stesso spazio quindi non è un podcast vero e proprio ma l'abbiamo fatto appunto a distanza grazie all'aiuto di un'applicazione chiamata discord che viene utilizzata specialmente da non so per esempio youtubers oppure gamers che appunto non vivono nella stessa zona o non vivono nello stesso paese e decidono appunto di stare in compagnia ma allo stesso tempo in lontananza diciamo appunto su discord è possibile fare delle videochiamate oppure delle chiamate semplici con più persone inoltre è possibile appunto diciamo guardare anche cose in compagnia quindi è un'applicazione molto comoda per questo tipo di incontri insomma dunque siccome su discord non è possibile registrare diciamo le chiamate abbiamo dovuto utilizzare anche delle terze applicazioni come per esempio c'è chi utilizzava il registraschermo del telefono altrimenti una persona ossia il presentatore prendeva il telefono e registrava la chiamata con il registratore del telefono che tutti abbiamo insomma scaricato già di principio per questioni vado un pochino avanti per farvi vedere che comunque Mariam entra nel dettaglio vedete qui apre la piattaforma allora non so se state vedendo poi spiega come salvare tutte le operazioni è dove appunto inizia ok è dove appunto inizia la chiamata in sé e sostanzialmente permette appunto alle persone di inserirsi nella chiamata grazie soltanto ad un click ecco blocca la persona che parla e praticamente la fa sparire mentre su discord non succede questo perché la si sente allora questo era soltanto per adesso torno un attimo a vedervi per mostrarvi quale possa essere l'apporto in peer education cioè sicuramente immaginatevi le compagne di Mariam ma sia coetanee della stessa classe sia anche più piccoli le più piccole cioè sono tutte più curiose tutte più desiderose di apprendere se questo insegnamento proviene da da una da una come loro insomma non da un insegnante ecco per questo tenevo moltissimo alla condivisione di questo video quindi io vi dicevo ho conservato questo video in evidenza per oggi perché intendo archiviarlo cioè una di quelle best practice di quegli artefatti che voglio utilizzare magari anche l'anno prossimo e quindi voglio archivare nel sito prima operazione da compiere è quella di creare una cartella rispetto a tutto quello che vogliamo archiviare per cui andiamo a nuovo questo pulsante in alto a sinistra e creiamo pulsante cartella una cartella la denominiamo prova 2 prova 2 laboratorio 3 marzo 2021 ok mettiamo questa volta un colore diverso mettiamo rosso ok lo apriamo e abbiamo questo spazio aperto come se avessimo aperto un faldone qualche cosa da riempire quindi intuitivamente di nuovo andiamo al pulsante appunto nuovo e abbiamo la possibilità di caricare un file un'altra cartella se vogliamo un caricamento di cartella questo significa che possiamo caricare una cartella già esistente oppure possiamo creare un documento ex novo foglio di google che è l'equivalente di excel una presentazione google che è l'equivalente 2.0 di powerpoint che è 1.0 un modulo oppure cliccando su altro disegno un gemboard un sites collegarsi con my maps eccetera o con altre applicazioni io ad esempio ho installato nierpod e prdeck dunque cominciamo con il caricamento di un'altra cartella quindi di una sottocartella basta andare ancora a cartella e la denominiamo sottocartella giusto per ricordarci che noi abbiamo questa sottocartella poi magari la rinominiamo come si fa a rinominarla è molto semplice si clicca e poi si va a rinomina rinomina e quindi dico sottocartella 1 ad esempio questa è la creazione di una sottocartella io posso anche andare come dicevo poco fa a caricare un file quindi un file dalla mia scrivania da documenti quindi ad esempio io posso vediamo che cos'è questo sì interessante la siren per la didattica a distanza ai tempi del covid va bene lo scelgo per il caricamento ecco questo pdf io posso tenerlo qui nella mia cartella generale oppure posso anche trascinarlo nella mia sottocartella semplicemente con un drag and drop così quindi io a questo punto posso anche rinominare la mia sottocartella quindi vado di nuovo a rinomina e scrivo sirem che è l'istituto di ricerca che ha prodotto questo documento che vi consiglio io poi vi condividerò tutta la cartella così vi troverete questo compendium sirem sia per l'università che per la scuola quindi una serie di link che erano stati prodotti ancora all'inizio del lockdown quindi sicuramente adesso questo sarà sarà stato aggiornato ma vi serve vi basta collegarvi a questi a questi link e trovate una una spiegazione ok andando quindi usciamo da questa sottocartella basta andare di nuovo qui a prova 2 laboratorio 3 marzo e ci ritroviamo questa sottocartella e andiamo a creare invece un nuovo documento quindi andiamo a documenti google documento vuoto e all'interno di questo documento mettiamo di essere con i nostri ragazzi possiamo creare diverse attività non so un brainstorming oppure possiamo invitare loro a caricare i link dei loro artefatti mettiamo adesso di dover raccogliere delle fotografie quindi che cosa come posso condividere questo documento che ho creato all'interno di una mia cartella come posso condividere vado semplicemente a questo pulsante in alto e se io condivido solo all'interno di questo documento nessuno potrà vedere ciò che io ho fuori all'interno della mia cartella vedrà solo ciò che ho in questo documento per cui io qui lo chiamo fotografie da caricare nel sito quindi salvo lavoro sulle condivisioni quindi dove c'è scritto copia link modifico perché non può essere solo riservato liceo veronica gambara voi siete anche esterni quindi chiunque abbia link lo metto in modalità editor così che ognuno di voi possa caricare le sue fotografie fine copia link fine e vi invito a caricare già qui fare il primo esercizio di caricamento di fotografie su questo documento google poi faremo la stessa cosa su moduli come si fa a caricare una fotografia allora si può sia da questo menu come vedete inserisci immagine sia da qui potete caricarle dal computer o cercarle nel web dal vostro drive o dalla vostra collezione di foto google oppure andando al pulsante inserisci immagine quindi ripeto caricarla nel computer cercarla nel web mentre voi fate questa operazione io vi mostro come cercare nel web quindi inserisci immagine cerca nel web cercate un argomento quale potrebbe essere podcast ad esempio stavamo parlando di podcast prima quindi queste sono tutte fotografie libere da copyright che possiamo utilizzare io ad esempio scelgo questa quindi ci clicco sopra e la inserisco eccola qua e questa invece è stata inserita da una collega un collega chi ha inserito questa bella fotografia io Marzia sono Antonella grazie Antonella questo è un classico microfono da podcast uno dei miei delle cose che mi voglio comprare perché assolutamente è troppo bello questo microfono da podcast quindi allora ripeto benissimo abbiamo anche la tour Eiffel questa è stata Laura sei tu Laura che l'hai caricata no l'ho caricata io che sei scusa Chiara Chiara Bragaglio è Chiara grazie Chiara allora potete fare i vostri esercizi io poi posso caricare questo documento tutte le vostre fotografie sul sito quindi questo adesso è condiviso soltanto da queste 12 persone siete già in 12 vedete 12 visualizzatori queste sono tutte le persone che in questo momento stanno lavorando su questo documento e quindi questo vi dà già l'idea di una di una cooperazione che anche a distanza diventa serena diventa bella perché insomma si riesce a fare contemporaneamente qualcosa a volte anche meglio di quanto si potrebbe fare in classe perché magari c'è sempre quella titubanza quella riservatezza quella timidezza da parte dei nostri studenti che a volte viene abbattuta proprio grazie all'utilizzo delle tecnologie perfetto benissimo che belle fotografie che avete postato vi ringrazio molto io proseguo che belle bellissime se volete scrivere magari a fianco sotto la vostra didascalia il vostro nome così poi riusciamo a risalire a chi ha postato queste fotografie basta una semplice didascalia ad esempio io sotto il mio podcast che ho cancellato quindi adesso torno indietro lo rimetto posso scrivere Marzia quindi posso anche andare a una commento vedete andando al più e scrivere Marzia in questo modo accanto alla fotografia è segnato l'autore in modo discreto senza disturbare l'immagine in qualsiasi momento questo commento lo si può eliminare vedete con i tre puntini in verticale modificarlo e o eliminarlo quindi io in questo momento magari lo modifico scrivo anche il mio cosmo così ok bene se avete già caricato sono cose stupende e vi ringrazio molto possiamo procedere queste sono questo è il file come vedete all'interno della nostra cartella prova 2 laboratorio adesso andiamo al cuore cioè al modulo quindi andiamo a nuovo andiamo a moduli google modulo vuoto quindi non scegliamo un modello questa volta creiamo tutto noi diamo innanzitutto un titolo quindi prova 2 laboratorio 3 mazzo automaticamente si crea il titolo anche all'interno del modulo come prima come prima domanda che poi non è una domanda insomma è una richiesta di collaborazione noi appunto chiediamo l'upload di un file lo possiamo chiedere ripeto ai nostri colleghi o anche ai nostri studenti può essere anche una pagina di quaderno che i bambini hanno hanno elaborato per fare un compito può essere la fotografia di un disegno può essere la fotografia di un compito in classe di francese o di un compito di matematica oppure può essere un doc un foglio un qualche cosa che è stato realizzato all'interno di drive in ogni caso è possibile creando questa opzione cioè andando a caricamento di file consentire a qui li chiama intervistati quindi a coloro che stanno collaborando con noi che siano studenti o colleghi di caricare un file premendo caricamento di file vi arriva già la possibilità di scegliere se consentire solo tipi di file specifici oppure di lasciare i vostri all'unno i vostri colleghi liberi di caricare qualsiasi file audio video presentazioni fogli moduli eccetera io come prima richiesta vi lascio liberi quindi un numero massimo di file da 1 fino a 10 io ne lascio 1 per la prima consegna e come dimensione massima vi lascio 100 miga ecco tenete presente che un modulo un modulo google nella versione education quindi workspace for education ha la possibilità di accettare fino a un tera di memoria quindi io di solito l'ho imposto su un giga è impostato di default su un giga se voi andate a modifica potete scendere e andare fino a un tera io ad esempio adesso lo clicco fino a un tera salvo in alto a destra e quindi voi potete veramente esagerare potete anche caricarmi dei file pesantissimi reggo la cosa devo rendere obbligatorio quindi questo è il pulsante per rendere obbligatorio e magari scrivo carica gentilmente il file richiesto che può essere ripeto audio video doc modulo presentazioni fogli veramente tutto è possibile caricare qui perché non ho flaggato questo consenti solo tipi di file specifici se io avessi flaggato cosa che posso fare poi torno indietro avrei potuto ad esempio scegliere di accogliere solo presentazioni oppure solo audio oppure documenti e fogli o pdf d'accordo quindi io lascio assolutamente libero l'upload di qualsiasi di qualsiasi file ecco qui posso al limite anche mettere una fotografia di quelle che ho magari qui di già caricate la inserisco così come per per abbellire un po' questa mia domanda quindi io non consento ripeto solo tipi di file specifici quindi tolgo questo flag ho aggiunto questa fotografia e già che ci siamo la metto anche qui in copertina quindi vado di nuovo qui alla tavolozza scelgo l'immagine vado alle foto che ho già salvato e scelgo la stessa la stessa immagine perché la trovo carina ecco qua quindi io ho impostato l'immagine posso anche impostare il colore del tema e anche lo stile del carattere quindi può essere gioioso formale decorativo o di base decorativo è così questo è quello formale e questo è quello gioioso che è quello che uso sempre io ok questa è la prima domanda proseguiamo creiamo una seconda sezione questa è una prima sezione per creare una seconda sezione andiamo a questo uguale sul menu di destra aggiunge sezione la chiamiamo caricamento di fotografie così le avete già sotto mano vado al più questa volta dopo aver selezionato caricamento di file seleziono file specifico e quindi scelgo solo immagine una sola con un massimo di di 10 anche di 100 vediamo un po' 100 megabyte ma si ci sta obbligatorio perfetto se voglio posso inserire un'altra immagine magari questa volta metto il castorino e quindi qui scrivo carica un'immagine un'immagine che ritieni significativa poi magari potrei chiedere in una domanda successiva di spiegare perché questa immagine è significativa ad esempio potrei fare un più inserire un paragrafo e chiedere al mio studente spiega spiega perché trovi l'immagine che hai caricato significativa immaginatevi questa cosa anche in lingua straniera sia per chi impara l'italiano come lingua 2 sia naturalmente per chi invece impara una lingua straniera essendo italiano quindi questo tipo di lavoro è molto gradito ai ragazzi perché è personale loro cercano qualche cosa ed esprimono una loro emozione un loro un loro sentimento un loro pensiero legato ad un'immagine rendere visibile l'apprendimento è una di quelle routine di pensiero che più mi sono mi sono care anche per chi è non vedente perché comunque una delle competenze importanti per chi lavora con non vedenti è quello di spiegare ciò che si vede spiegare l'immagine non è facile dunque non mi resta che a questo punto lavorare sulle impostazioni quindi io tolgo questo limite rispetto al dominio liceo gambara non tolgo il limite alle risposte potete caricare quante volte volete non chiedo di apportare non potete apportare modifiche dopo l'invio al limite fate più invii e non visualizzate i grafici riepilogativi non mi interessa perché questo non è un sondaggio la dimensione massima di tutto il modulo è un tera e l'avevamo già deciso prima quindi vado a salvare questa impostazione raccolgo gli indirizzi mail e desidero che le persone ricevano la risposta quindi flaggo raccoglio indirizzi mail risposte sempre così voi avete sulla posta elettronica che viene raccolta automaticamente il promemoria dei documenti che mi avete inviato salvo e vi do il link quindi vado a invia vado a questa catenella centrale abbrevio lo url lo copio e lo metto in chat di modo che ognuno di voi possa se vuole non è assolutamente obbligatorio caricarmi come prima cosa un un file di qualsiasi tipo quindi può essere un documento può essere link a un audio un video a un'immagine a un foglio a una presentazione o a un modulo e come seconda invece consegna quella di caricare un'immagine come avete fatto prima con il documento vediamo un po' se arrivano le risposte io le risposte le vedo qui in alto vedete questo è lo spazio domande questo è lo spazio risposte sono ancora in attesa di risposte il link funziona si è aperto si si funziona funziona vediamo un po' se arriva qualcosa ditemi se devo tornare su qualche passaggio non chiaro ecco intanto che attendo vi spiego anche questi tre puntini in alto allora con questi tre puntini potete creare una copia di questo modulo una copia significa che vi riporta fedelmente tutte le vostre domande prive delle risposte quindi molto comodo potete spostarlo nel cestino e vi ricordo che le cose spostate nel cestino non sono eliminate definitivamente per eliminarle definitivamente dovete andare nel cestino e eliminarle da lì potete ovviamente stampare potete aggiungere collaboratori quindi se voi cliccate aggiungi collaboratori potete ad esempio decidere indicando qui l'indirizzo di posta elettronica io ad esempio ho visto qui la mia collega Laura io la nomino editor cosa significa? che Laura può se vuole anche creare delle domande modificare le mie o anche toglierle quindi il collaboratore ha questa funzione io a voi ho dato il link per compilarlo quindi vi ho dato il link di compilazione se invece vi inserisco qui allora voi potete agire direttamente come editor quindi modificare anche cancellare tutto cancellare anche la prova stessa o aggiungere collaborare con me creando questo modulo per i ragazzi ecco qua si preme invia in questo momento dovrebbe essere arrivata Laura la possibilità di condividere in modalità editing questo modulo vediamo chi ha risposto benissimo grazie a fior di petalo ma che bello questo questo nome utente mi scusi io mi ero registrata con il mio account istituzionale ma non riuscivo ad entrare quindi ho utilizzato la mia mail personale ok ecco vi ricordo che se risulta fior di petalo dal rapporto di partecipazione io difficilmente poi riesco a ricavare il vostro nome e cognome per cui se siete entrati con un account diverso rispetto a quello con cui vi siete registrati siete invitati a scrivere in chat il vostro indirizzo cioè l'indirizzo che mi servirà poi per spedirvi l'attestato di partecipazione alla fine dell'anno scolastico ok siamo a sei perfetto vediamo un po' che cosa ci è arrivato in tutte le lingue allora Antonietta Chiara Antonella Roberta Laura e Patrizia hanno già caricato un file e anche un'immagine perfetto hanno hanno spiegato scusi allora io ho cliccato sul link ma mi dice che non posso rispondere perché non dispongo dell'autorizzazione per condividere documenti allora questo è accaduto cliccando sul modulo cliccando sul link che ha che ha caricato allora se io ritorno sulle impostazioni vede facendo ricevuta di risposta io richiedo un indirizzo gmail se io non chiedessi non facessi la raccolta automatica degli indirizzi probabilmente lei riuscirebbe facciamo questo tentativo quindi io adesso tolgo raccoglio indirizzi mail e salvo secondo me adesso lei dovrebbe riuscire a caricare provi no mi dice ancora la stessa cosa è strano molto strano magari poi alla fine del laboratorio vediamo di capire meglio questa cosa sto parlando con Anita Lupica con Anita ci sono altri problemi o le altre persone sono riuscite tranquillamente a caricare no tutto bene tra l'altro Laura ti conferma che mi è arrivato l'invito a modificare quindi io a tutti gli effetti posso modificare il modulo che hai creato e vedo e vedo anche le risposte arrivate perfetto grazie Laura la novità di questi ultimi tempi è proprio questa cioè quella di andando a risposte di trovare anche già visualizza cartella non so se voi avevate già precedentemente fatto questo lavoro cioè di richiedere file ai vostri ai vostri studenti o ai vostri colleghi però non si visualizzava questo visualizza cartella e qui si trovano tutti i belli raccolti in una sottocartella i lavori che mi avete inviato quindi bellissimi vi ringrazio tantissimo molto belli peccato non poterli aprire tutti queste sono invece le vostre fotografie ecco qua ditemi se ne manca qualcuna ci sono tutte tranne quella di Anita purtroppo questa è quella di Antonella ah sì c'era anche non ho letto scotto l'ho riconosciuta prima di leggere Antonella perché c'era anche nel tuo lavoro estivo che meraviglia sì può essere la riciclo spesso ma è bellissima fai bene fai bene diffondila più che puoi sono i miei fini scusi può essere che io sono in realtà sono entrata con il mio account istituzionale però ho fornito al momento della registrazione un'altra email appunto allora lei provi allora se è entrata in questo modulo con l'account istituzionale vuol dire che il suo account istituzionale è un filtro che non le permette di entrare adesso me lo sono spiegata quindi se fosse stato un account senza filtro avrebbe potuto andare perché avevo tolto proprio ogni limitazione ma provi a entrare con un suo account non istituzionale in questo modulo provi allora esco e provo a rientrare con ok ma non non in questo Meet Anita nel modulo ah ok va bene quindi allora dicevo questi sono i file che si sono raccolti in questo momento quindi ho creato un modulo in una cartella chiamata prova 2 laboratorio 3 marzo e come vedete si è conservata la cartella che avevo sotto cartella che avevo creato precedentemente con questo con questo pdf e si è creata spontaneamente la sotto cartella prova 2 laboratorio cioè nel momento in cui io ho creato questo modulo prova 2 laboratorio si è creata anche la sotto cartella vedete con le due consegne carica gentilmente il file e carica un'immagine quindi se io clicco ad esempio su carica un'immagine vi trovo ancora quella cartella di prima questo passaggio è molto prezioso perché pensate a tutto il tempo che risparmiate cioè semplicemente chiedendo l'upload da parte dei vostri studenti o dai vostri colleghi attraverso un modulo e vi trovate tutto bello ordinato in due sotto cartelle qui due perché ovviamente le consegne erano due di file la risposta che ha richiesto la motivazione chiaramente non c'è perché non è un file nelle cartelle vengono raccolte soltanto le documentazioni file se io invece voglio raccogliere quelle che sono i commenti le spiegazioni dei miei ragazzi allora devo andare a risposte e copiarmi semplicemente così le loro risposte quindi io posso tornare nella mia cartella allora vediamo un po' ecco qui creo un nuovo documento google incollo le risposte dei miei ragazzi che poi siete voi vedete questo è formattato quindi come faccio per togliere la formattazione vado qui e clicco T e ho tolto la formattazione adesso ammetto Anita nuovamente Anita eccoci qua di nuovo bentornata dicevo ho tolto la formattazione adesso torno indietro così vi faccio vedere questo passaggio allora ho caricato come vedete non so se vedete bene comunque c'è una sorta di fondo grigino questo è quello della formattazione perché io ho copiato da moduli io in genere la lascio quando devo documentare ad esempio alla fine delle mie formazioni io copio sempre i commenti nei form e per documentare che siano veramente i commenti e non ho tolto nulla non ho modificato nulla lascio la formattazione se invece devo togliere qualche cosa perché devo caricarlo su una presentazione e devo rendere la cosa con una grafica diversa allora seleziono e vado su questo pulsante cioè questa T con la sbarra sopra e mi cancella la formattazione vedete e quindi io selezionando nuovamente posso cambiare carattere posso cambiare colore e naturalmente anche dimensione ecco questi sono i vostri commenti e qui naturalmente cambio e scrivo commenti domanda 3 ok torno indietro ecco quindi io mi ritrovo nella mia cartella prova 2 laboratorio 3 marzo tutti questi documenti ultimo passaggio è quello della creazione del sito molto molto semplice in due minuti lo facciamo quindi andiamo a nuovo scendiamo a sites vedete google sites si apre una cosa simile a quella di presentazioni no quindi diamo subito un titolo prova 2 laboratorio di marzo come vedete bisogna inserire il titolo titolo ulteriore cioè in automatico viene prova 2 noi scriviamo caricamento file cambiamo immagine quindi ad esempio mettiamo questa del digcomp edu ok e poi andiamo a inserire ciò che ci interessa per cui noi dobbiamo andare a prendere quei file di moduli per cui andiamo a drive drive ci apre tutte le nostre cartelle io vado alla prova 2 e la inserisco in questo modo io inserisco tutto quello che io ho nella mia cartella comprese le sottocartelle vedete cioè sia sirem che prova 2 adesso pubblico ok quindi è importantissimo questo passaggio pubblico e condivido con voi quindi io devo lavorare sulle limitazioni chiunque abbia il link sito pubblicato pubblico ok fine ecco qua vado a link copia link e ve lo metto in chat sono rimasta nei tempi è tutto qui ovviamente io posso anche caricare tutto quello che voglio andando a inserire io posso caricare una casella di testo un'ulteriore immagine ad esempio posso andare a carica immagine e andare a caricare il logo della mia scuola ok oppure posso incorporare un link che mi interessa io prima stavo guardando questa cosa educazione digitale quindi copio questo link lo incorporo eccolo qua quindi questo è questa è l'home page di educazione digitale quindi ripeto ho incorporato un'intera cartella con i risultati del mio modulo il logo della scuola e un link io posso volendo ed è molto utile questo incorporare direttamente anche un modulo cioè se io voglio che ad esempio i genitori entrino nel mio sito e compilino un modulo io vado a moduli ad esempio questo questionario iniziale di autovalutazione adesso le scelgo uno che non sia stato compilato per questioni di privacy vediamo un po' se ne trovo uno non compilato uno magari che ho fatto a livello di prova vabbè poi lo tolgo subito giusto per vedervi per farvi vedere che è possibile anche compilare un modulo eccolo qua vedete questo è un questionario che io ho sottoposto ad una classe se io clicco poi su pubblica ho la possibilità di vedere bozza con il nuovo caricamento e tutto ciò che è attualmente pubblicato se mi va bene mettere anche questo pubblico e lo vedete anche voi eccolo qua solo dopo aver cliccato pubblica c'è una domanda forse siete riusciti tutti io in questo momento chiudo la registrazione la interrompo e rispondo volentieri alle vostre domande le vostre domande Grazie.